Arezzo 2020, questo è il nome della vostra lista, vediamo insomma nel vostro programma tanti aggettivi. Come dovrebbe essere allora questa città di Arezzo, non solo nel 2020 ma fino al 2000 quantomeno 25? Direi una città solidale ma soprattutto una città, purtroppo direi una città legale. Dobbiamo tornare in campo anche questa volta dopo dieci anni provando a ristabilire trasparenza, legalità e correttezza all'interno di questo palazzo. Volevamo fare una campagna elettorale incentrata su altri temi, lo faremo ma questo inevitabilmente è una priorità dopo le notizie degli ultimi mesi. La prima volta, citavate Arezzo 2020, la prima volta che la sinistra, il mondo della sinistra, il mondo ambientalista di questa città si presenta unito, senza candidati sindaci e con un'unica lista elettorale in appoggio al candidato del centro-sinistra Luciano Ralli. Abbiamo Roberto Barone che l'altra volta come vi ricorderete è stato candidato sindaco autonomo, abbiamo candidati di Insieme Possiamo, di Gianni Mori ma soprattutto abbiamo tante persone, avremo, stamattina ce ne sono solo alcune, che in questi cinque anni io ero in aula a fare opposizione e loro erano nella città, nei vari aspetti della città, nelle varie questioni legate all'opposizione Ghinelli e soprattutto nella costruzione di una città diversa. In questo momento un aspetto centrale che, ritornando alla domanda precedente, che secondo me dovremmo in qualche modo focalizzare l'attenzione e Luciano per me ha garanzia su questo e rafforzare anche, e questo sarà un messaggio da dare anche a Gianni, rafforzare anche la sanità territoriale, che non vuol dire l'ospedale, vuol dire tutto quello che concerne appunto la medicina di base, quindi tutte le attività legate alla prevenzione e all'intervento prima di eventuali ingressi in ospedale. Questo è un aspetto centrale anche alla luce del Covid. Chi ha detto ci saranno solo due candidati che se la batteranno, cioè Ralli e Ghinelli, in realtà ci sono anche Donati, poi Gamurrini che fa la lista per conto suo, Farsetti, che era in area di centro-sinistra assolutamente. Mi sembrava di aver detto un'ovvietà sinceramente, nel senso che in qualche modo le proposte politiche in qualunque città italiana si sono due, sono quella diciamo, e a livello nazionale, sono quella diciamo dei Salvini locali e quindi il nostro sindaco Ghinelli e sono quelli di un'altra proposta politica, quella di centro-sinistra, semmai c'è il Movimento 5 Stelle da vedere quello che poi succederà e io sono tra quelli, lo sapete, che ha chiesto al Movimento 5 Stelle anche pubblicamente di allearsi con noi in qualche modo, hanno fatto un'altra scelta, ma credo che se ci sarà il ballottaggio potremo invece mettersi al tavolo senza problemi con i rappresentanti del Movimento. c'è un po' lo stereotipo, a resto non si fa nulla, però magari se poi si va realmente a cercare c'è possibilità, però magari non vengono tanto fuori queste cose, quindi magari anche molto più verso la cultura, il teatro, la musica, queste cose proprio più per uno sviluppo personale e poi collettivo. Visto che l'ambiente è uno dei vostri temi centrali sul termovalorizzatore di San Zeno, come la pensate, come credete che il candidato sindaco Ralli, se diventasse sindaco, si dovrebbe muovere? Dobbiamo bloccare assolutamente qualunque proposta che preveda un rafforzamento, un raddoppio di quell'impianto. Il Paese e l'Europa stanno andando in altre direzioni, ci sono delle leggi sull'economia circolare, è anche anacronistico spendere quei soldi, quindi ci sarà il via libera tra poco e noi appena governeremo questa scelta rivedremo completamente quella scelta. Il sistema non può essere a rezzo, e questo va detto anche a Rossi e a Gianni, non può essere a rezzo ad occuparsi e a preoccuparsi dei rifiuti della Toscana.